Buonasera e benvenuti al TG News Rosso Nero. Siamo alla vigilia del Grand Prix. Domani le ginnaste partiranno per Casoria. Noi sappiamo quanto la serata prima sia molto importante. Affrontiamo questo tema in studio con la ginnasta più giovane della Double Fire che domani scenderà in pedana, Luna Mikolis. Ciao Luna, hai 11 anni, vero? Buonasera a tutti, grazie Simona, siamo 11 anni. Come passi queste ultime ore prima della gara? Di solito io mi rilasso e chiudo gli occhi e ripenso tutti i miei esercizi che dovrò fare il giorno dopo in gara oppure cerco di distrarmi e divertirmi con i miei compagni tecnici. Quali sono le emozioni che provi in questo momento in merito alla gara? Ho un po' di ansia come sempre, però cercherò di dare il massimo per avere un buon punteggio. Sono sicura che mi divertirò molto e come sempre sarà un'esperienza dimenticabile. Grazie Luna, ed è tutto per questa edizione del TG News Rosso Nero. Vi ringrazio per la vostra attenzione e arrivederci.